allora buongiorno caleb grazie di essere qua con noi con lettore della bibbia per dare per fare una prima presentazione dei contenuti della stagione hey quella che comincerà ad ottobre la stagione di studi allora caleb tu ti occuperai sarà il primo che si occuperà di una serie di sessioni e la tua riguarderà un argomento è una tematica molto molto di attualità quindi il titolo è iran persia ed apocalisse allora ti faccio subito una domanda anche per restare proprio in tema di questi giorni visto quello che sta succedendo cosa che ruolo pensi che avrà l'iran se vuoi dirci anche qualcosa delle origini di questo popolo di questo impero nel piano di dio soprattutto in questi tempi mi sembra una domanda di estrema attualità sì sicuramente siamo in un momento dove stiamo vedendo l'iran in una luce molto negativa nei confronti per esempio dello stato di israele e continui richiami a sterminare lo stato di israele che significherebbe spazzare via a gerusalemme spazzare via dall'attenzione di tutto il mondo una nazione che non può che far parlare di dio dei piani di dio dell'adempimento di profezie che sembrava che non si sarebbero mai adempiute come il ritorno del popolo ebraico nella terra di israele ma il popolo iraniano in realtà credo che ha un un ruolo nel piano di dio come tutti i popoli che ha sì per chi si è ribellato a dio delle sfaccettature negative ma anche delle sfaccettature positive e sia nell'attualità ma se saltiamo nei tempi biblici e sulle sull'attualità c'è l'ipotesi sul tempo biblico alla certezza quando nei tempi biblici l'iran era nota come persia era la stessa nazione che da una parte ha fatto ricostruire il tempio dio si è usato di ciro e viene quasi alloggiato ciro per la costruzione del tempio e allo stesso tempo è la stessa popolazione che nei tempi di ester cerca per la prima volta di sterminare di spazzare via la memoria del popolo ebraico dalla faccia della terra e queste sono le due sfaccettature che ci sono sempre anche oggi vediamo un governo iraniano molto ostile al cristianesimo tanti iraniani devono fuggire dall'iran perché sono perseguitati molto ostile allo stato di israele dall'altra parte ci sono tantissime testimonianze sia dal punto di vista di cristiani e anche ultimamente anche da notizie esterne di un'enorme crescita del vangelo nella nazione dell'iran che porta a pensare quanto invece in questa popolazione c'è la possibilità di raggiungere tutta una fetta di mondo il mondo islamico e l'islam sciita che sembra irraggiungibile sembrano porte chiuse da tantissimo tempo e invece credo che dio ha l'intenzione di penetrare anche questi popoli grazie se hai già fatto anche una bella carrellata rispetto alle origini di questo popolo poi hai anche citato personaggi biblici come estere ciro in realtà ancora un approfondimento legato ad altri personaggi che provenivano dalla persia quindi l'impero persiano che ha queste origini antiche un impero è un popolo estremamente intelligente possiamo dire un impero tollerante ma c'erano dei personaggi che sono venuti fino a betlem per incontrare il re dei re ecco questo bambino ed erano proprio i magi i magi d'oriente c'è qualche collegamento fra loro e il mondo della persia sì il termine magi origina da un termine iraniano persiano e si crede sia a causa della dell'origine di questo termine ma è molto probabile anche conoscendo un po' le dinamiche che questi erano zoroastriani oggi associamo l'iran all'islam ma per la gran parte della storia del impero persiano che poi nel 1935 cambia nome e si fa chiamare iran e sono stati zoroastriani e la religione zoroastriana è cambiata nel tempo come tutte le religioni con fasi politeiste monoteiste ma avevano un gruppo un gruppo una sorta di casta sacerdotale che loro conoscevano con questo termine magi quindi quando nel nuovo testamento sentiamo che dei magi da oriente vengono a celebrare la nascita di un re sono consapevoli di questa nascita queste erano persone che nascono da questa cultura è ovvio che nel riconoscere la nascita di gesù come messia c'è uno strappo con la religione zoroastriana ma il loro punto di partenza è questo la loro identità il motivo perché sono interessati a capire cosa sta succedendo nel mondo e guardare le stelle studiare le stelle cercare di capire e dio si usa anche se la bibbia ci insegna di non seguire per esempio le stelle dio si usa del linguaggio che loro comprendono per dirgli vi sto annunciando qualcosa di nuovo e per portarli a vedere la nascita di gesù quindi il il collegamento è lì da magi che noi associamo con dei re che portano in realtà magi sono delle figure sacerdotali zoroastriane e da oriente e lì è molto chiara la direzione da israele se vai oriente trovi queste terre qui la persia la babilonia la siria e in queste terre questo termine magi è particolare della religione zoroastriana grazie davvero molto interessante quindi andare alle origini degli imperi ecco perché tu hai già detto bene c'è l'islam sciita dietro l'iran però è molto facile equivocare nel senso l'iran e la persia ovviamente non sono popoli arabi non parlano la lingua araba e non si ritengono arabi quindi eh loro ci tengono anche nella contemporaneità ci ci tengono a diversificare quindi loro non si sentono arabi quindi nell'ambito di queste lezioni in cui tu ci hai dato un cenno no queste lezioni che ricordiamo cominceranno il venti eh ottobre eh andranno avanti per una serie di mesi affronteremo diversi 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 imperi faremo proprio un viaggio tra gli imperi quindi subito dopo passeremo all'impero Roma di Romano e quindi la nascita del del cristianesimo apostolico ecco il movimento giudaico cristiano poi andremo avanti con dei cenni sulla Grecia eh ci sarà una parte dedicata eh al mondo arabo perché come abbiamo visto è molto semplice molto facile fare confusione quindi sciiti sunniti vedremo le appartenenze soprattutto anche le escatologie diverse che ci aiuteranno a capire cosa sta succedendo nel mondo adesso e poi faremo ancora un salto e vedremo la riforma protestante ehm vedremo la perdita delle radici iutaico cristiane in Europa cosa sta determinando e poi faremo ancora un ultimo un'ultima sessione dedicata all'attualità quindi quindi sarà un bel viaggio questa stagione di studi però tu sarai il primo a parlarci di questo grande impero che è stato eh contemporaneo al mondo biblico ecco e quindi nello specifico come si svilupperanno questi incontri che hanno questo tema Iran Persia ed Apocalisse? Sì ehm eh le tre parole chiave Iran Persia Apocalisse scorrono molto naturalmente eh in questo ordine quando li presenteremo in realtà partiremo dalla Persia per imparare delle lezioni del passato e nella stagione di studio si sarà ci faranno tante lezioni dalla storia dalla Bibbia per poi capire il mondo attuale anche come comportarci nel mondo attuale quindi partiremo dalla Persia dalle lezioni del passato vedremo dei reperti archeologici anche per ambientarci ehm forse termini come acmenide o parti o sassanidi li abbiamo sentiti ma per fare un po' di ordine mentale quando e come si interfacciano con la storia biblica abbiamo accennato un pochettino con Ciro ma ci sono tanti momenti quando si incrocia anche con immagino che non ti aspetti che c'entra qualcosa l'Iran ma in realtà c'entra per passare poi alle considerazioni sul presente eh già capire che c'è una cultura diversa in Iran rispetto al mondo arabo ti aiuta a capire come è possibile che vediamo ehm l'Arabia Saudita e l'Iran con atteggiamenti diversi nei confronti di Israele e in guerra tra di loro eh quindi si capisce meglio il presente conoscendo il passato e ti aiuta anche a vedere come interfacciarti se incontri una persona dall'Iran e una persona dall'Arabia Saudita eh vi ricordo un incontro con una persona dall'Iran che era molto offesa che non sapevo nulla della sua cultura della sua nazione si si parlava di Vangelo si parlava di fede dice io del dell'Italia so tutto mi diceva e tu di una di una nazione di grande importanza anche biblica non sai nulla e quindi questo ci aiuterà a capire il presente anche capire come comportarci eh con persone che Dio vuole raggiungere ricordiamo continuiamo a vedere l'Iran con occhi molto ostili perché c'è uno stile da in atto ma dietro a nemici si nascondono cuori che ancora non si sono piegati a Dio e parleremo poi di rivelazioni bibliche vedremo l'Apocalisse appunto ma non solo Apocalisse impariamo a capire l'Apocalisse da Daniele 2 Daniele 7 Daniele 8 eh per capire Apocalisse 13 comprendiamo meglio il il quadro se comprendiamo Ezechiele e la visione di Gog e Magog che cita anche la perse quindi cercheremo di capire meglio brani molto conosciuti mettendoli tutti uno a fianco all'altro e vedendoli insieme per capire cosa dicono per capire cosa si può dire con certezza e dove invece ci sono dei dubbi perché con l'Apocalisse qualche dubbio c'è sempre benissimo guarda mi è mi è piaciuta molto la frase che hai detto all'inizio cioè di comprendere il ruolo che questo popolo ha avuto e che ancora ha nel piano di Dio in mezzo a questo puzzle che sembra abbastanza turbolenta una situazione turbolenta in questo periodo quindi adesso più che mai è importante conoscere anche le origini di questi popoli per comprendere il presente e poi fare delle ipotesi sul futuro quindi ehm metteremo poi in questo link in sovraimpressione il le modalità di iscrizione quindi come iscriversi al tuo corso e anche a tutti altri corsi in realtà faremo un'iscrizione unica eh vuoi dire anche qualcosa sui momenti di laboratorio che ci saranno insieme nel senso che non vogliamo solo che siano delle lezioni così poco interattive sì sì essere imperativi in realtà il grande certo nel corso della stagione di studi ci saranno anche figure di altissimo livello ma non vogliamo solo sentire parlare vogliamo prendere tempo e dialogare interfacciarci sia domande e risposte nei due interventi che farò con questo tema Iran-Persiak-Pocalisse ma nel corso della stagione di studio vogliamo anche avere momenti di laboratorio dove essendo iscritti e potendoci incontrare su Zoom gli iscritti possono interfacciarsi eh noi possiamo tutti quelli che siamo presenti possiamo presentare domande punti di visto sentito dire eh io parlerò molto della visione l'interpretazione dell'attualità di due figure molto diverse eh Jonathan Cun da una parte e Greg Biel dall'altra una un'autorità sull'Apocalisse eh commentario un'altra una voce che cita molto il profetico l'attualità e a volte non sono d'accordo e quindi avere spazio per poter parlare eh cercare chiarimenti cercare anche di capire cosa si sa con certezze dove ci sono legittimi dubbi è molto importante per questo vogliamo avere più momenti di laboratorio nel corso della stagione di studio. Perfetto perfetto allora sarà davvero interessante partire dallo zoroastrismo vedere Ciro eh Dario coloro che si sono succeduti e poi arrivare all'Islam sciita e comprendere quanto c'è di affascinante da una parte in queste origini nell'origine di questo popolo e anche però impegnarsi a conoscere meglio cosa sta succedendo e poi eventualmente anche sì avere un tempo per pregare rispetto alla situazione attuale insieme quindi saranno approfondimenti ma anche momenti di altissima qualità sia di formazione che di spiritualità. Quindi grazie Caleb ci prepariamo allora a questa stagione di studi finendo le vacanze estive abbiamo già degli obiettivi davanti a noi. Siamo entusiasti di incontrarci tutti poi su Zoom. Grazie mille allora a presto. A te Alessandro. Ciao. Ciao.